salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di valfer games io sono valfer il signore dei giochi e bentornati bentornati ancora una volta su escape from tarko allora ragazzi oggi si parla dei fucili d'assalto allora lo scorso episodio abbiamo dato un occhio un po più accurato ai al carabine semi automatiche considerate comunque dal gioco fucili d'assalto oggi guardiamo proprio i fucili d'assalto allora andiamo in armi fucili d'assalto sono tanti partiamo dal primo las val las val che come vedete costa anche l'ira di dio fa parte della famiglia della k è un'arma poco modificabile a poche modifiche però è perfetta per tutte le esigenze soprattutto se giocate da soli fucile d'assalto che di norma è già silenziato di suo infatti la canna è silenziata ha un radio di fuoco di 900 rpm la stessa cadenza di fuoco diciamo di un mp5 quindi un caricatore da 30 in manco mezzo secondo lo scaricate sul bersaglio e utilizza solo proiettili perforanti i 9x39 proiettili strutturati proprio per penetrare con facilità ha un bassissimo rinculo il che lo rende un'arma veramente potente ragazzi il mio consiglio in assoluto se avete modo usatelo se lo trovate raccoglietelo abbiate purtroppo la pazienza che di sapere che se morite uccisi da un giocatore scav o da un pmc quest'arma non vi ritornerà né ora né mai infatti costa anche tanto ds arms sa 58 7 62 per 51 comunemente chiamato fall o fn fall arma sempre della guerra in vietnam di origine americana effettivamente molto potente l'unica arma del gioco ragazzi inerente i fucili d'assalto che non va usato automatico è un'arma anche questa che quando morite non vi ritornerà mai le modifiche sono anche molto molto costose e per essere un fucile d'assalto è molto facile da modificare per essere reso un fucile semi automatico di precisione quindi un'arma di precisione semi automatica veramente potente e letale ha un'ergonomia veramente pessima un rinculo incontro però se usata a colpo singolo si può rivelare veramente qualcosa di perfetto in ogni situazione fucili d'assalto a k tutte le 50 sfumature da k ragazzi a k 101 102 103 104 105 a k 74 m k 74 n a k m n a k s 74 n e così via la differenza tra tutti ragazzi tra tutti questi che ignoreremo perché alla fine sono uguali è che quello che vi consiglio io è la k 74 m 5 45 per 39 se vi chiedete il perché motivo molto molto semplice ragazzi è l'unico che ha un rinculo che di standard è il minimo rispetto a quello degli altri a k in più usa i 5 45 per 39 proiettili facili da trovare anche durante la partita potrete trovare delle scatolette di munizioni bt di quest'arma che sono traccianti e perforanti economiche perfette per avere un'arma col quale vi accertate che quando sparate se beccate il bersaglio quel bersaglio in pochi colpi deve morire indistintamente che sia uno scav o un player dopodiché a k 74 n ovviamente ve lo sconsiglio già 91 di rincuro ignorateli tutti a k m n questo è una k abbastanza buono ragazzi utilizza lo stesso calibro di munizioni che nel video precedente avevamo detto usava l'SKS solo che è una k un calibro più grosso quindi fa anche più danno rispetto alla k m ma ha un controllo un rinculo incontrollabile infatti va utilizzato solo a colpo singolo quindi come se fosse semiautomatico e se lo volete usare da automatico assicuratevi di aver speso moltissimi rubli per modificarlo e sparate in automatico solo quando siete o in ginocchio o sdraiati per terra poi per il resto non c'è nient'altro da dire di quest'arma vediamo 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 ok fucile hash 12 arma che costa l'ira di dio rinculo incontrollabile cercato da molti odiato da tutti si utilizzerà una volta sola e lo butterete via chi dice il contrario mente ragazzi mente questa è un'arma che è l'unica nel suo genere ad utilizzare i 127x55 un calibro ancora più potente di quelli dell'SKS quindi quelli anche della K m n però la fregatura ragazzi è che è incontrollabile in ogni caso a poche modifiche quelle poche non lo rendono comunque controllabile quindi ignoratelo e se lo trovate vendetelo qualche povero disgraziato che pur di provarlo lo comprerà facendovi fare miliardi di rubli su Tarkov c'è sempre fucile dal salto m4 praticamente l'adar versione americano che può sperare automatico arma ragazzi abbastanza buono l'm4 il calibro che usa alla fine i 556x45 della nato sono un ottimo calibro gli stessi dell'adar l'unica fregatura ragazzi è che se lo volete rendere un laser come in tante live di twitch e altro si vede dovete spendere diversi milioni ebbene sì perché ci sono delle modifiche soprattutto dalla parte del paramano e della canna che costano diversi milioni perché è estremamente rare da trovare nient'altro da dire ragazzi una volta applicate quelle è un cazzo di laser tanto quanto l'mp5 la fregatura è che anche questo per qualche motivo e non è ed è un normale m4 ragazzi già payskipper a livello 2 che raggiunta a livello 10 spesi di un milione di dollari da lui già ve lo venderà non vi ritornerà mai indietro manco fosse l'arma di gesù cristo però vai a capire la gente che cosa ne capisce di armi poi per così dire fucile d'assalto dtmdr 556x45 le stesse munizioni della km della k74m fucile avanzato anche questo quando morite non vi ritornano no scusate della nato quindi le stesse munizioni dell'm4 errore mio mi ero confuso fucile d'assalto poco modificabile perfetto per essere trasformato in un fucile di precisione o un fucile d'assalto di precisione rinculo abbastanza controllabile soprattutto se sparate in ginocchio o sdraiati e può essere un perfetto laser su lunga distanza se lo trovate ragazzi prendetelo sempre questa è un'arma che anch'essa quando morite non vi ritorna mai più indietro certo non è l'arma di gesù cristo ma la troverete molto divertente e comoda da usare dtmdr 7.62x51 versione un pochino più avanzata ovviamente usa lo stesso calibro dell'SKS stavolta i7.62x51 è un'arma abbastanza buona identica alla prima solo che usa un calibro più grosso ed è di colore scuro fine proprio si sono cacati tutti i creatori di tarco HK che dire di quest'arma ragazzi anche questa come il dtmdr facile da trasformare in un fucile d'assalto di precisione su lunga gittata o un normale fucile di precisione facile da modificare per quanto però costino tanto le modifiche anche questo quando morite non vi ritornerà mai più indietro arma perfetta soprattutto sulle zone strette come corridoi e tunnel AK-74 quello classico normale ignoratelo come tutti gli altri AK AK-M lo stesso della K-MN identico in tutto e per tutto rinculo e calibro la cosa che cambia dai due il nome poi sono uguali in tutto e per tutto fine AK-MS questo qui è una K che non può avere calci fissi ma solo un calcio sola questo qui ripiegabile perfetto se volete avere una K di precisione che utilizzo ovviamente sempre lo stesso calibro dell'SKS però è buono da usare solo a colpo singolo questo neanche da sdraiato è controllabile il rinculo ragazzi quindi non utilizzatelo mai automatico sempre solo a colpo singolo gli applicate le modifiche lo rendete un fucile di precisione e buonanotte molto economico da modare alla fine AK-MS lo stesso del primo solo con un nome diverso uguale all'altro in tutto e per tutto AK-S lo possiamo ignorare AK-S-74U eeeh qui c'è un po' da dire ragazzi della famiglia della K prima di creare il Saiga 9 e il PP-19 hanno creato la KS-74U la versione mitraglietta quindi più corta e tozza della K da utilizzare solo ed esclusivamente a colpo singolo senza le adeguate modifiche incontrollabile se dovete sparare automatico con quest'arma neanche in ginocchio riuscite a controllarlo sparate solo da sdraiato per il resto se non siete disperati o non ci volete spendere soldi ve lo sconsiglio però anche questo può essere usato come un'arma abbastanza come dire valida per tutte le situazioni perfetto soprattutto sulle brevi distanze per sparare senza prendere la mira quindi sparare senza prendere la mira col tasto destro AK-74U la stessa del primo una sola differenza solo una sola proprio singola ha l'aggancio qui laterale per metterci sopra i mirini di precisione fine AK-74U uguale al primo e al secondo piccola differenza il nome fine poi sono uguali niente di più e niente di meno detto questo ragazzi spero di avervi dato un attimo informazioni più che dettagliate sui fucili d'assalto così da aiutarvi a decidere quale usare quale poi andarvi a concentrare voi nello scoprire le modifiche e moddare detto questo ragazzi da Walfair Games è tutto alla prossima alla prossima